Ad accompagnarlo in carcere a Brescia carabinieri della compagnia di Breno che lo hanno prelevato dalla sua abitazione dovrà scontare 5 anni e 8 mesi il 32enne Camuno coinvolto in una vicenda di violenza sessuale ai danni di ragazze minori, ospiti della casa famiglia che il giovane gestiva insieme ai familiari. I fatti contestati sarebbero avvenuti fra il 2007 e il 2014 e le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Breno erano partite dalle segnalazioni di alcune delle ragazze minorenni che erano state oggetto delle attenzioni del giovane all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne. Le ragazze avevano raccontato ai militari le attenzioni talvolta morbose seguite da palpeggiamenti delle parti intime di colui che avrebbe dovuto occuparsi della loro assistenza. Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto in quegli 8 anni all'interno della comunità e di dare riscontro ai racconti delle ragazze. La vicenda si chiude per ora con una condanna e l'arresto del responsabile. E' invece accusato di peculato, falso e ideologico in atti d'ufficio appropriazione in debita alla gente della polizia locale di Ura Godoglio cui carabinieri della stazione di Rudiano hanno notificato la misura cautelare di sospensione degli uffici pubblici in queste ore. L'uomo, un 59enne, è stato oggetto di lunghe indagini e pare che in più occasioni abbia utilizzato l'auto di servizio per spostamenti non di servizio anche fuori comune, che abbia commesso irregolarità in pratiche d'ufficio, che abbia riscosso l'affitto di un cittadino straniero senza versarlo al proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla risconsione da parte dello stesso di pagamenti di sanzioni per violazioni del codice della strada che non risulterebbero incassati dalla tesoreria comunale.